Sabato prossimo 2 febbraio, appuntamento col pellegrinaggio mariano del primo sabato del mese. Dove andiamo, Don Giorgio? Andiamo alla chiesa del Carmine del Rebocco. L'appuntamento è alle 8 presso il santuario di Sant'Antonio Gaggio, nei frati francescani, da dove di lì si partirà a piedi verso la chiesa parochiale, che è una chiesa mariana, in cui si venera da lunga data la Madonna sotto il titolo di Nostra Signora del Carmine. Ecco Don Giorgio, le intenzioni di preghiera, come sempre per la santificazione del clero, è il dono di nuove vocazioni, ma è anche un'occasione particolare. È un'occasione particolare perché è il 2 febbraio, quella che noi chiamiamo la candelora, ma è la giornata di preghiera della vita consacrata, per cui è una felice coincidenza, questa che noi come chiesa diocesana ci ritroviamo insieme a chiedere il dono di vocazioni, in questo giorno in cui tutta la chiesa universale prega, ringrazia per il dono della vita consacrata. Don Giorgio, qualche indicazione logistica con un'attenzione, una sottolineatura sulla questione del pullman. Certo, il pullman messo a disposizione della diocesi non ci sarà perché essendo in città sia a Gaggiola che il rebocco è raggiungibilissimo con i mezzi pubblici, per cui non c'è il pullman e si è invitati a usare i mezzi pubblici, alle 8 a Gaggiola, 8.30 messa al rebocco e poi il momento conviviale di fraternità insieme. Sarà sempre il nostro Vescovo a presiedere la celebrazione e mi raccomando siamo puntuali perché è davvero un'occasione di preghiera straordinaria. Grazie Don Giorgio. Grazie.